Draghi ci ha dato la parola che non avrebbe aumentato neanche una tassa. Come ho parlato del Presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di Green Pass a tutti i lavoratori, del pubblico e del privato. A differenza di quello che ho letto su qualche giornale, quindi questo mi conforta. Salvini, lei qualche giorno fa però aveva detto che Draghi l'aveva assicurato che non ci sarebbe stata nessuna estensione del Green Pass a lavoratori. Si sente preso in giro da Draghi? No. Sarà la storia a dire se questo Green Pass serviva o no. Io aspetto e non commento. Per aumentare la tassa sulla casa, per tornare alla legge Fornero, per gli aumenti delle bollette di luce e gas, bastava Mario Monti. Siccome Draghi non è Monti e la Lega ha scelto di entrare in questo governo per evitare l'aumento di tasse, noi in Parlamento e al Governo diremo di no a qualsiasi ipotesi di ritorno alla Fornero. a qualsiasi ipotesi di aumento della tassa sulla casa. Nuove tasse, non ne voto e non ne voglio. In caso contrario uscirete dal governo? No, no, no. Noi stiamo al governo. Io non lascio l'Italia in mano a PD e 5 Stelle.